Sospensione del pagamento delle utenze e forniture fino a dicembre 2021, maggiore liquidità alle imprese, proroga della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione al 2022, essenzione imposte prefabbricati inagibili. Sono alcuni dei capitoli del pacchetto di emendamenti presentati a Teramo dagli esponenti della Lega Antonio Zennaro, Luigi Deramo e Tuglio Patassini e che sono stati depositati al decreto mille proroghe all'esame delle commissioni bilancio e finanza alla Camera. È vero che il governo è in carica per gli affari correnti, però è stato concordato di andare avanti con il decreto mille proroghe. Quindi in commissione bilancio la Lega ha presentato un importante tra i vari emendamenti anche un pacchetto sulle aree colpite dal sisma. Ad esempio ci abbiamo le bollette, ci abbiamo ad esempio tutte le rate dei mutui per i comuni, abbiamo il tema della zona franca, abbiamo chiesto la proroga fino al 2026, ci sono anche dei temi di tasse su ad esempio gli immobili distrutti, sul calcolo dell'ISE, insomma tutta una serie di aiuti concreti perché è vero che siamo in un momento in cui il governo non c'è, però bisogna non dimenticare i territori colpiti dal sisma. Soprattutto anche con grosso problema che è una dimenticanza del governo perché la ricostruzione non è stata inserita nel piano del recovery che è arrivato alle Camere. Quindi bisogna intanto tamponare con questi provvedimenti che danno ossigeno immediato, soprattutto sotto il profilo economico e sociale e poi bisogna anche fare una battaglia politica per inserire all'interno del recovery fund anche la ricostruzione. Se no rischiamo in un territorio colpito da eventi catastrofici sotto il profilo soprattutto anche economico, gli effetti li vediamo ancora, restare fuori dal recovery è un grosso danno per l'Abruzzo e per le altre regioni colpito dal sisma. Sulla tempistica è intervenuto Luigi Deramo. Bisogna innanzitutto continuare la fase di sburetualizzazione delle procedure perché chiaramente il paradosso dei paradossi è che spesso la ricostruzione non parte, parte in ritardo a tempi biblici perché la documentazione da produrre a volte è veramente ossessiva. La nostra presenza, la nostra battaglia continua. Oggi presentiamo ulteriori pacchetti risolutivi, di proposte risolutive rispetto alle tante cose che non vanno. Il problema è che siamo all'opposizione, quindi siamo rimessi alla volontà del governo che oggettivamente sulla fase della ricostruzione è totalmente assente. Zona franca urbana, blocco del pagamento delle tasse sugli immobili, abbiamo fatto una serie di proposte su rinvidi, pagamenti ed è fondamentalmente quello che i cittadini ci chiedono. Uno Stato e un governo che non riesce ad ascoltare il grido di dolore, di difficoltà economica che parte dalle zone terremotate è evidente che è un governo che non è degno di un paese civile.